attenzione questo video contiene una parte che potrebbe causare misofonia a chi si trova nella stessa marca come me farò il possibile per avvertirvi del suono vedremo se con un minutaggio o con un suono di avvertenza tipo bip comunque in qualche modo cercherò di farvi capire quando ci sarà il suono misofonico che mi serviva per far capire agli altri come ci sentiamo grazie e buon ascolto ciao sono riccardo e voglio fare un gioco con te che probabilmente ti avrà già anticipato il titolo voglio far finta che tu mi incontri per strada e io ti racconti di tutte le mie battaglie una cosa che specialmente quando siamo di fretta o quando siamo con gli sconosciuti non facciamo ho poco tempo spero che nessuno mi interrompa perché veramente ci tengo a fare bene questa cosa 3 2 1 parte il gioco a tre anni sono stato diagnosticato con la tetraparesis pastica tetra deriva dal greco vuol dire 4 praticamente non si è salvato manco un altro io tengo il telefono così dopo un po devo lasciarlo perché mi stanca non sono tanta parte adesso sono da solo ma non posso permettermelo per molte ore sono a volte gli unici momenti per fare i video da solo non posso fare nemmeno la pipì sì le mie parti intime sono esposte giornalmente ad un'altra persona anzi due perché nella fortuna c'è anche una specie di sostituto a 31 anni sono stato costretto dalla paura a fare il siero magico che youtube non vuole sentire nominare non volevo non volevo farlo non volevo i miei dolori quindi dipendenze quindi scambi di stagione sono aumentati quindi da un anno e mezzo circa prendo nove gocce di olio di cannabis al giorno ma molto meglio grazie a parte gli ultimi giorni che sembra di non prendere più nulla più o meno contemporaneamente a 24 anni mi erano state diagnosticate l'allergia e l'ipotiroidismo tramite analisi medica non posso stare senza antistaminico troppi giorni perché 12 mesi all'anno mi sentireste star patire per quanto riguarda l'ipotiroidismo una piccola fialetta la mattina prima di fare colazione che voi non vedrete così non vi da troppo fastidio già questo risabile rompiscatole che si permette per fine di avere dei diritti quindi l'ipotiroidismo e l'allergia le abbiamo detti giusto ok da qualche anno sono aumentati i sintomi del reflusso cos'è il reflusso? google vi da un'idea ma vi posso assicurare che non è uguale per tutti io non tollero ad esempio il pomodoro insalata com si com sta aceto assolutamente no tutto quello che è acido tutto quello che è menta tutto quello che è cioccolata non dovrei ogni tanto e lo concedo ho un'intolleranza strana al latte solo al latte gli altri sono intolleranti a tutto il lattosio io solo al latte è ultimo però non ultimo negli ultimi due anni più o meno sono diventato misofonico la misofonia è un altro problema anch'esso neurologico non ho le prove che sia stato aumentato dal siero magico ma se il siero magico da problemi neurologici questo è un problema neurologico la sensazione della mia amigdala quando una persona mangia umorosamente facendo robe tipo così quando beve dalla bottiglia alla velocità della luce quando succhia il cibo è la stessa cosa che se io fossi in una foresta circondato da un branco di lupi pronti a sbranare perché ho invaso il loro territorio immaginate come ci sentiamo non c'è cura non ho intenzione di sottopormi alla terapia d'urto perché mi farebbe solo stare peggio ma i pazzi siamo noi talmente pazzi che c'è un gruppo su facebook che era pieno degli sfoghi degli altri ma se tu cercavi uno di loro in privato nessuno era disposto ad ascoltarti perché alla faccia del 2020 in cui tutti abbiamo avuto paura in cui tutti ci siamo sentiti soli io non ho avuto più video chiamate degli altri anni voi? come è stato per voi il 2020? scrivetemelo nei commenti ve l'aspettavate una conversazione così del genere per strada? io penso di no e allora qual è il messaggio che vi voglio dare con questo video quando l'altro giorno una persona mi disse io sto per essere sottoposto a stomia e per questo per me i chilometri sono un problema o volevo dirmelo per farmi sentire in colpa io non dico mai queste cose per strada perché il messaggio non è fatevi compatire il messaggio è questo ogni persona che incontri combatte battaglie di cui non sei a conoscenza forse riconoscerete questa frase io aggiungo due parole ma due di numero nel dubbio si gentile sempre buon proseguimento a tutti e un sorriso per voi ciao ciao